La storia è una storia, ma lo penso sul serio, perché Cuba dice qualcosa di molto importante. Nella vita c'è la speranza e quando la guerra, il caos, la distruzione è dappartutto, rimangono le donne per dire continuiamo. È un grido d'amore, un spettacolo con le donne, con 60 donne sul palco scenico che hanno un cuore grandissimo e un talento stupendo. È uno spettacolo delle donne. Oggi le turiane sono tutte le donne eroine della guerra. Purtroppo ci sono tante guerre ancora oggi sulla terra e tutte le guerre sono le stesse. E allora abbiamo bisogno di questo coraggio, di questa volontà di dire continuiamo. Vedete qui ci sono tanti testi che abbiamo avuto il piacere di sentire. C'è la nostra storia e l'intelligenza di capire che abbiamo bisogno di questo appuntamento. Le autore ti danno, ti fanno un dono, un regalo mettendo le parole sulle nostre emozioni. Oggi posso dire che mi sembra impossibile perché sto lavorando, ma c'era un miracolo il 10 maggio e vi aspetto con grande attesa. Grazie. 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 Grazie.